Mettimi giù, Bat-mostro! Robin, prepara la cella. No, no, no! Fermo lì, Robin. Li hai uccisi, vero, Henry? Oh, Batman, sei prevedibile. Sempre alla ricerca del lato buono. In particolar modo, dei cattivi. Tesoro, sono a casa! Attivazione protocollo di fuga. Ora sappiamo chi ha riprogrammato la sorveglianza. Ora, se vuoi essere così gentile... Raggiungi il tuo amico laggiù. Va all'inferno. Adesso. Bella mossa, Henry. Tocca a te, Batman. L'evoluzione è una cosa strana. Per quanti ostacoli possano incontrare, i più forti sopravvivono sempre. Però... Sai cosa dicono dell'evoluzione? Anche un ameba lo sa fare. Che stai facendo? Purifico il pool genetico. Nemmeno io so più per chi ti fare ora. Addio. È stato... istruttivo. istruttivo. Ho cambiato idea. Uccidi, uccidi, uccidilo! Questo è... inaspettato. Sarai davvero... spettacolare. No! 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 Non di nuovo! I tuoi occhi. Sei tu l'ultimo Joker. Quell'altra c'è lei per te. Devo fermare Crane. Fatto questo, mi farò rinchiudere. E se fallisci? Saresti troppo pericoloso, non ti fermerei. No, 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 no! Questo non lo farai! Devi entrare nella cella. È l'unica scelta che ci rimane. È un discorso da disfattista, Batman. E lo sai. Mi dispiace, Bruce, ma è l'unico modo. Lo so, Tim. Fermerò Crane. Signorino Bruce, rilevo numerose forze della milizia dirette alla sua posizione. È il Cavaliere di Arkham. L'ha trovata. Ora ci penso io, Alfred. Ne hai sicuro? Sono estremamente numerosi. Ripeto, ci penso io. Te la caverai. Certo che sì. Mi hai addestrato? Inizio serrata di sicurezza. Sì. 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 Non preoccuparti per Robin, Batman. Sono sicuro che non morirà. Almeno sono abbastanza sicuro. Non ho mai finito di raccontarti di Jason Todd, vero? Non ho mai finito di raccontarti. Sì. Sì. Hai forse qualcosa da dire a questo bravo signore, Jason? Mi chiamo Jason Todd. Chi detesti? Batman. Eccellente. È ovvio sia così. Hai sentito, Batman? Il bambino non è più tuo. È mio. È mio. Mio, mio, mio. E ne farò ciò che voglio. Ehi! Non te l'ho chiesto. Qual è il segreto? Chi è il pipistrello cattivo? Il suo nome? Dimmelo. Ma certo. Non mi sono mai piaciute le lingue lunghe. Ecco perché lavoro da solo. Nessuno che possa rovinarmi le battute. Dovresti provare anche tu. In fondo, sai già cosa succede quando trascini gli amici in strani giochetti come i nostri. Ok. No la Ricchetti. ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Testa! Ascoltami! Possiamo aiutarti! Non devi farlo per forza! Alfred! Alfred! Figlio di puttana... Hai interrotto le comunicazioni! Sir, tutto a posto? Ho perso i contatti con Robin. Sta bene? Sta bene. Comunicatore rotto. Ce l'ho qua davanti. Grazie al cielo. Con quel che succede temevo il peggio. A proposito, il Cavaliere ha ordinato un plotone di blindati di isolare la città per riprendere il controllo. Per fortuna, l'upgrade generatore per armamenti che ha richiesto è pronto. Grazie, Alfred. Tim, c'è... una cosa che devi sapere. È successa una cosa. No, non lei. Non è vero. Barbara... è morta. Mi dispiace. Fammi uscire. Non posso. Chiunque mi è vicino diventa un bersaglio. Non lascerò che capiti anche a te. Bruce, per favore. Lo devo fare. No. Figlio di puttana! Come osi! Non puoi decidere tu! Sta lontano da me. Via! Aspetta un attimo, dannazione. Se Henry non era immune al morbo del clown pazzo, allora vuol dire che non esiste una cura. Hai segregato quel ragazzino nel laboratorio quando avrebbe potuto salvare Barbara! È stato crude, egoista e con conseguenze orribili. Se solo l'avessi fatto apposta... Coraggio! Facciamo vedere a Gotham come... No, no, no! Non ditemi che se n'è andato!